Due massaggiatrici cinesi erano state aggredite ed appinate all'interno della propria abitazione a Salleo, immediata periferia retina. Adesso è arrivata la prima condanna per uno dei due autori, 5 anni e 8 mesi di reclusione. La vicenda risale allo scorso ottobre, quando i due imputati, un 43enne ed un 20enne, zio e nipote, fingendosi clienti, con una scusa riuscirono ad entrare nella casa delle massaggiatrici. A questo punto prima le picchiarono a mani nude e poi le minacciarono con un coltello per farsi consegnare l'incasso della giornata, circa 6.000 euro. Entrambe le signore hanno riportato lesioni, soprattutto la mia assistita ha riportato 30 giorni di prognosi, con trami sia al corpo che al viso. Grazie alle urla delle donne, l'intervento dei vicini, i due malviventi, con numerosi precedenti specifici, furono arrestati poco dopo dai carabinieri. Adesso il 43enne è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione. Si parla di due persone molto robuste, con due signore cinese molto piccoline e magroline, che sono state davvero picchiate sia al viso che al corpo, calci, pugni, il tutto, per riuscire a scovare dove era il loro patrimonio, che probabilmente era nascosto da qualche parte. Non sono riusciti in questo e l'ha stangata, probabilmente, credo, usando questo termine, dovuta da anche una dichiarazione dell'imputato, a mio avviso un po' paradossale. Volevo solo fare un regalo a mio nipote, ma siamo stati aggrediti, così infatti lo zio si sarebbe giustificato in aula. Il 20enne ha invece optato per il rito abbreviato e sarà giudicato il prossimo 28 marzo. Una delle due vittime, infine, si è costituita parte civile e ha ottenuto un risarcimento di 5.000 euro in via provvisionale. Dell'altra donna, invece, dopo le cure in ospedale, si sono perse le tracce. Grazie a tutti.